La bellezza è il mio paradiso in terra. La bellezza e l'amicizia mi fanno vivere il paradiso. Colori, forme, immagini. I disegni esposti, legati fra loro dal filo comune dell'autismo, raccontano ognuno storie diverse, singolari nella loro unicità. Storie di bambini, appena abbucciate. Pagine quasi bianche, ancora tutte da tracciare. Segni leggeri, forme sospese. Storie di ragazzi, di adolescenti solo in parte delineate. Immagini ancora incompiute, dai contorni confusi, dai colori accesi. Storie di giovani adulti già sviluppate. Percorsi intrapresi, come quelli di chi è riuscito, fra mille ostacoli, a trovare, proprio nell'espressione grafica, una sua strada. I disegni parlano. Dentro ci sono le emozioni, le impressioni, le fantasie e i sogni di chi li ha raffigurati. Tutto un mondo da ascoltare. DISEGNO I MIEI PENSIERE DISEGNO I MIEI PENSIERI Il mio mondo è un arcobaleno di colori I colori sono i miei umori E le parole che non riesco a dire Grazie a tutti